Ciao a tutti Un video veramente velocissimo Che ho iniziato un po' così Perché in realtà non mi vedevo nella webcam E quindi non capivo niente Comunque Un video velocissimo Solo per dirvi una cosa Breve breve Domani sera Ovvero giovedì 17 aprile Ci sarà la prima puntata Di Wild Oltrenatura su Italia 1 In prima serata E ci sarà un servizio su di me Questo è quello che Un po' è successo Nei giorni scorsi Se avete visto insomma Il video della mia ultima live C'è stato un po' di qui Però qua Questo è il svelato insomma L'arcano Appunto è stato registrato Questo servizio Che andrà in onda Appunto domani sera Giovedì 17 aprile All'interno di Wild Oltrenatura Con la fiammetta cicogna No vabbè E non ho conosciuto Fiammetta cicogna Quindi non chiedetemelo E niente Questo vi volevo dire Quindi se vi va di guardare Il video Insomma la puntata E quindi il servizio Poi fatemi sapere Magari Qui sotto O nei prossimi video Insomma che cosa ne pensate Vi metto nel box Qui sotto Anche un articolo Che è uscito Con una mia breve intervista Su redattore sociale Che ha appunto Fatto questo secondo articolo Riguardante me Nel senso che Mi hanno dedicato Questo Di nuovo Uno spazio Perché in precedenza Me ne avevano già Dedicato un altro Parlando Dei video Che avevo fatto Contro il trenitalia Quindi vi metto il link E nulla Pasta Volevo dirvi solo questo E poi Insomma Per chi mi segue Su facebook Sa che Negli ultimi giorni C'è stato un po' Di trambusto Con la mia gatta Eccetera eccetera Quindi Non ho potuto fare Granche video A parte Quello che ho pubblicato Per partecipare a un concorso Che è quello Prima di questo Insomma Per cui Insomma Sappiate che poi Tornerò A fare tutte le mie chiacchiere Ho già in mente Diverse cose Di cui voglio parlare E basta Questo è quanto Vi mando Un bacione Fatemi sapere Cosa ne pensate Del servizio Spero che vada in onda In questa prima puntata Almeno così mi hanno detto Altrimenti Insomma Vi farò sapere Se ci sono dei cambiamenti Fatemi sapere Vi mando un bacione E a presto Ciao